Per fare questo esercizio ci andiamo a sdraiare a terra a pancia sopra. La prima cosa che dobbiamo fare è piegare una gamba e appoggiare il piede a terra, con tutta la pianta a terra. Ci sdraiamo appoggiando anche la testa a terra e cerchiamo di formare un doppio mento. E da questa posizione quello che devo fare è portare l'altra gamba che non sta piegata allo stesso livello dell'altra. Quindi deve arrivare parallelamente all'alto. La gamba deve restare distesa e con la punta del piede verso l'alto. I movimenti sono lenti. Una volta fatto con una gamba appoggio il piede dell'altra gamba, distendo quella che prima era piegata e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Quindi questo.